Buongiorno amici di Universo Foto sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video vi ricordo se già non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale YouTube abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di un treppiede che io lo definisco mediano che sta nel mezzo perché non è troppo leggero ma neanche troppo pesante, non è troppo piccolo in termini di ingombro ma al contempo non è neanche troppo grande. In parole povere è il treppiede ideale per chi vuol comprare un unico treppiede e usarlo per tutto, la serie NS, ma prima la sigla. Sirui NS, parliamo di un treppiede che lo possiamo definire a metà, professionale e per amatori evoluti. Il treppiede per chi ha bisogno di un unico treppiede che faccia tutto. Perché dico questo? Perché è un treppiede dalle caratteristiche assolutamente versatili. Partiamo prima di tutto dall'analizzare il nome come già vi ho fatto vedere nei video precedenti sui prodotti Sirui. N che sta per la serie che è una serie professionale, S perché ha la parte finale delle gambe dove c'è il giunto che ha la forma S in modo da rendere ancora più performante la resistenza alle torsioni a parità di dimensione delle gambe. Quindi a tutti gli effetti un treppiede di ultimissima generazione di Sirui. Poi abbiamo quattro numeri in mezzo e abbiamo quattro modelli di prodotto 1 0 0 4 1 2 0 4 2 0 4 2 2 0 4. L'ultimo numero il più semplice come già vi ho raccontato in un video precedente in cui vi ho parlato del T 0 0 5 di tutte le caratteristiche dei treppiedi indica le sezioni delle gambe. Infatti questi treppiedi hanno quattro sezioni tutti e quattro i modelli. Partiamo dal fondo. Il quarto numero è quattro in tutti e quattro i modelli quindi come già vi ho spiegato in un video precedente inerente la serie T 0 0 5 ma uguale anche in tutti gli altri. L'ultimo numero identifica quante sezioni hanno le gambe. La serie NS ha tutte e quattro i prodotti quattro sezioni. Il penultimo numero è un numero indicativo interno alla brand Sirui, a noi non è dato sapere a che cosa indichi. Il secondo numero identifica il materiale. Abbiamo due prodotti che hanno il numero 0 quindi alluminio, due prodotti che hanno il numero 2 quindi carbonio. Il primo numero a mio parere è il numero più importante perché identifica quanto sono grandi le sezioni delle gambe. Abbiamo due prodotti che hanno la sezione 1 e a oggi la line up di Sirui va da 0 a 5 di dimensione di diametro delle gambe e abbiamo due prodotti che hanno il numero 2 quindi che si trovano esattamente nel mezzo della line up dei prodotti Sirui. I prodotti che io ho qua da farvi vedere sono N2004 e N2204. I prodotti con uno semplicemente hanno le gambe un po' più piccole. Entriamo nel dettaglio di quanto più piccole ed è qua che iniziamo a capire perché un treppiede che a mio parere è versatile, è un treppiede tutto fare quindi il treppiede di qualità per chi ha necessità di comprare un unico prodotto e non ha possibilità di comprarsi magari prodotti più costosi e performanti come vedete qua dietro tipo la serie SR o la serie RX e poi al contempo portarsi un treppiede magari più piccolo in certe altre situazioni. La serie N che inizia con 1 ha le gambe il cui diametro maggiore è circa 2 cm il più piccolo un centimetro e mezzo quindi qua ci troviamo circa ad avere due centimetri in fondo circa un centimetro e mezzo. La serie 2 ha già le gambe molto possenti e performanti infatti ci troviamo ad avere la sezione più grande che è circa 3 cm e quella più piccola che è poco meno di 2 cm quindi parliamo di un treppiede il cui carico della versione 2 quindi in alluminio in carbonio è di circa 15 kg, della versione 1 è di 12 kg. La differenza è minima 15 kg, vi faccio un test non fatelo a casa, io mi sto agganciando e sono attaccato al treppiede. Questo sta a identificare quanto realmente è performante e resistente quindi quanto sono cauti nel definire quanto peso può reggere. Vediamo altre caratteristiche che vanno a identificare questi quattro prodotti. Vi ricordo sempre che tra le caratteristiche di base tutti i prodotti Sirui sono forgiati e non fusi quindi riescono a mantenere alto il livello di qualità del prodotto e del materiale stesso. Abbiamo questa forma S che gli permette di dare una maggiore resistenza, come avete visto non solo alle torsioni ma anche al peso. Abbiamo come tutti gli altri prodotti di ultima generazione questo meccanismo che ci permette di andare a selezionare i tre livelli del treppiede stesso. Abbiamo un innesto vite un quarto di servizio dove possiamo agganciare un braccio piuttosto che un microfono, piuttosto che qualsiasi altra cosa che ci può servire da agganciare a fianco del treppiede stesso. Abbiamo una bolla di livello per vedere se ci troviamo in altezza, se non è in altezza e ci troviamo in situazioni sconnesse quello che io consiglio è sempre utilizzare la base livellante LE60 sopra che vi ho presentato in un video precedente. La parte superiore dove blocca la testa ovviamente abbiamo anche due viti per poter bloccare la testa e evitare erroneamente che si sganci dal treppiede stesso quando la trasportiamo quando abbiamo la fotocamera sopra a riposo. Top entriamo nel dettaglio delle caratteristiche uniche del treppiede stesso. I quattro prodotti quindi oltre a differenziarsi da due in alluminio, due in carbonio, due che hanno un diametro lievemente inferiore, due che hanno un diametro lievemente superiore, tutte ovviamente hanno almeno due spugne per poterci agganciare anche in alte o basse temperature come ormai hanno tutti i prodotti della line up di Sirui. Abbiamo anche altre caratteristiche che differiscono, la linea che inizia con 1 è un pochino più bassa quindi la parte centrale arriva a 1,32 m e alto al massimo compresa la colonna centrale arriviamo fino a 1,57 m, la linea 2 invece arriva a 1,35 m quindi 3 cm in più e con l'asta centrale alzata al massimo arriviamo a 1,63 m quindi un livello di tutto rispetto per un prodotto del genere. La versione in alluminio e in carbonio ovviamente differiscono di peso, parliamo di 1,4 kg e 1,7 kg per la versione che inizia con 1, nella versione che inizia con 2 parliamo di 1,7 kg e 2,1 kg quindi prodotti veramente leggeri, non solo leggeri ma parliamo anche di prodotti che se sganciata l'asta centrale abbassati al massimo arrivano ad essere 17 cm il prodotto più alto e 15 cm il prodotto che inizia con 1. Come fare a fare questo? Molto semplice, possiamo sganciare l'asta centrale e avere il prodotto totalmente ribassato. Che altre caratteristiche abbiamo? Un'altra caratteristica molto importante è anche la dimensione da chiuso perché questo prodotto possiamo tranquillamente e comodamente chiuderlo ruotando solo di metà giro ognuno dei twist perché l'apertura e la chiusura è un meccanismo di twist e vi ricordo anche e ve lo faccio vedere il sistema di pulizia, posso sganciare totalmente il prodotto, io mi trovo un'unica scocca che non si sgancia con un innesto obbligato, pulisco questa parte qua con aria compressa e anche la parte opposta e ci vado a mettere un po' di liquido siliconico, vado a reinnestare e l'innesto è obbligato e richiudo e il prodotto mi torna con il nuovo quindi anche nel caso in cui lo utilizzassi dentro all'acqua, nella sabbia, comunque in situazioni di sporco anche se non è la linea W cioè la waterproof, riusciamo comodamente a renderlo nuovo ogni volta. Peraltro i prodotti hanno anche sei anni di garanzia e vi ricordo che se li comprate presso i rivenditori italiani registrateli sul nostro sito toscanafotoservice.it per abilitare i sei anni di garanzia. Ritorniamo a noi quindi vi faccio vedere quanto poco spazio occupa quando chiuso, ovviamente la serie 1 è qualche centimetro più piccolo, 46 cm quando è chiuso, questa parliamo di meno di 50 cm cioè 49 cm, apro il meccanismo che mi permette di selezionare le tre altezze, continuo a ribaltare e anche se avessi la testa installata mi rimane qua in mezzo e riesco comodamente a trasportarlo. Posso agganciarci la testa e un'altra cosa molto carina in fase di trasporto è questa, questa è la sacca di trasporto, io ho all'interno della sacca di trasporto il gancio che lo posso comodamente, agganciamoci ad esempio una testa, in questo caso ho messo una K20 che è il prodotto ideale, la K20 o la G20 per questa tipologia di prodotto, che io posso con la tracolla utilizzabile per trasportare la borsa anche utilizzarla per agganciarci il treppiede quindi io aggancio una parte nella testa così e l'altra parte dalla parte opposta e grazie a questa forma AS si va a bloccare quindi io posso comodamente trasportarmi il treppiede e vi faccio vedere come, sto facendo tutto senza utilizzare un punto d'appoggio perché è talmente facile e semplice, io posso tranquillamente trasportare il prodotto in questo modo e avere un treppiede sempre con me senza dover comprare niente in più, quindi anche questo un'ulteriore caratteristica positiva che hanno tutti i treppiedi Sirui da un certo livello in su e questo ovviamente ha già questa caratteristica. Prodotto quindi molto compatto, molto leggero, 1,7 kg ovvio che ormai quello che pesa di più è la testa nel caso del trasporto di questo prodotto. Un'altra caratteristica è la possibilità di sganciare questi puntoni in plastica e mettere quelli in metallo già in dotazione quindi io li sgancio, se non riesco a sganciare ho un buco in cui posso inserire la vite a brugola anche questa in dotazione e dopo aver sganciato il puntono in plastica io prendo i puntoni in metallo che sono inclusi nella confezione e nel caso in cui mi trovo in superfici sconnesse all'aperto in montagna dove ho bisogno di una altissima stabilità o dove c'è un po' di vento io posso comodamente fissare queste punte. A differenza del meccanismo che esce la punta in metallo in questo caso sappiamo che quando abbiamo installato la punta in metallo il prodotto rimane sicuramente saldo e fermo e bloccato e questa è la punta in metallo immaginatela su tutti e tre quanto può essere realmente performante. Un'altra caratteristica essenziale di questi prodotti è la possibilità di diventare monopiede. Come fa a diventare monopiede? Come gli altri treppiedi come già vi ho spiegato una delle gambe si può trasformare in monopiede. Adesso vi faccio vedere anche qua quanto è veloce trasformare in monopiede il prodotto stesso. Come fare a rendere il treppiede monopiede? Semplicissimo troviamo la gamba con scritto monopod e sganciamo. Abbiamo la sezione di base, abbiamo anche la parte centrale che dobbiamo sganciare. Come facciamo a sganciare? Abbiamo la parte di sotto che la possiamo togliere, togliamo la parte superiore dell'asta centrale e prendiamo la parte di sotto. Inseriamo la vite, l'innesto anche qua è obbligato, per avere un'ulteriore altezza in più. Sganciamo la parte centrale, in realtà dentro la confezione c'è un altro ma vi sgancio questo per farvi vedere quanto è semplice utilizzare il prodotto come monopiede. Si svita, anche qua vite un quarto e vite tre ottavi e prendiamo questo pezzo che lo andiamo ad agganciare dopo aver messo la maniglia per monopiede all'interno del prodotto stesso. Apriamo e ci troviamo un monopiede di oltre un metro e mezzo pronto all'uso, quindi anche qua abbiamo un prodotto di dimensioni veramente importanti, leggerissimo ovviamente. Anche l'apertura e la chiusura avete visto come è molto semplice, apro i tre e poi chiudo. Semplicissimo, quindi ricordatevi sempre quando avete i prodotti a twist che fanno mezzo giro come questi, mezzo giro, mezzo giro, mezzo giro, apro e blocco oppure sblocco tutti e tre, chiudo e li blocco insieme in questo modo 1 2 3, chiudo e li blocco tutti e tre insieme, il prodotto è bloccato, tutti e tre li apro e il treppiede è pronto all'uso, quindi massima velocità e soprattutto anche massima durata nel tempo. Come fare quindi ad agganciare la testa alla rovescia? Noi possiamo utilizzarla o solo una parte, quindi solo la parte piccola nel caso in cui la tenessimo rivoltata all'ingiù, oppure in questo caso andiamola a riagganciare tutta, prendiamo il supporto centrale, l'innesto anche qua in questo caso è obbligato perché c'è una rotaia, anche qua tra la parte lunga e la parte corta dell'asta centrale c'è un innesto obbligato a rotaia, sblocchiamo e abbiamo il prodotto pronto per fare macro fotografia. Quando è agganciato all'insotto possiamo anche agganciarci un peso per far sì che stia ancora più saldo al terreno, quindi a tutti gli effetti è un prodotto veramente versatile. Bene amici vi ho elencato tutte le caratteristiche, i punti di forza della serie NS di Sirui, quindi il treppiede che sta nel mezzo che ha tutte le caratteristiche per essere il treppiede unico per chi deve fare un investimento duraturo nel tempo e soprattutto con caratteristiche di altissima versatilità, leggero ma assolutamente performante, piccolo quando è chiuso ma quando si apre alle dimensioni giuste per poter fare quasi tutto quello che ci serve. Versatile perché diventa monopiede, perché il retratto occupa poco spazio, il treppiede che io ho personalmente comprato e che utilizzo regolarmente quando ho bisogno di andare in giro e fare delle riprese o degli scatti. Vi ringrazio ovviamente di aver visto il video fino alla fine, se avete dubbi o domande non esitate a porle nei commenti, raccontateci anche la vostra esperienza sull'uso dei treppiedi, diteci se già utilizzate la serie NS di Sirui, vi ricordo che potete comprare i prodotti presso i rivenditori autorizzati Sirui Italia che vi posto in descrizione comprando da loro avrete sicuramente prezzi concorrenziali, un servizio di garanzia, i sei anni extra che potete quindi registrare il prodotto presso il nostro sito toscanafotoservice.it e soprattutto ci aiuterete a continuare a creare contenuti sul nostro canale gratuitamente per voi. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, abilitate la campanellina per rimanere sempre aggiornati, seguiteci anche su facebook, su instagram e visionate il nostro magazine online universofoto.it dove quotidianamente troverete articoli inerenti il mondo della fotografia. Vi ringrazio di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona giornata! Ciao! 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 Ciao!